Benvenuti, cominciamo subito e viene Sanita a darvi il benvenuto. Buon pomeriggio a tutti, noi siamo la classe di pianoforte della maestella Rebellone. Oggi suoneremo per voi alcuni brani preparati durante questo anno accademico. Abbiamo affrontato lo studio nonostante inevitabili momenti di sperdimento e abbiamo coltivato il nostro piccolo grande miracolo della musca che, come sapete, ci mette in contatto con le nostre emozioni più profonde. Vi auguriamo di sentire con noi queste stesse emozioni e di attraversarle con l'ascolto. D'altronde, il sedetto della musica è proprio questo, avere il potere di raccontarle.